O Dio! È uno schiuma party! Ho sempre voluto farlo! Andiamo! L'ultima volta che ho partecipato a uno schiuma party ho fatto famiglie. Ne sono uscita vincente, quindi spero di farcela. Forza, Marnie, spiegaci le regole. Benvenuti al primo Paradise Game. Chi vincerà questo gioco migliorerà la sua vacanza con una ricompensa. Passerete la giornata di domani a guidare dei quad e poi un bel tuffo rinfrescante nella vasca idromassaggio del lì. Che figata! Vasca idromassaggio! Sei mia! Il Paradise Game di oggi si chiama Fon Party. Per prima cosa, ogni squadra deve comporre un puzzle che nasconde il nome di una famosa località per fare festa. Una volta completato il puzzle, passerete al tabellone dove ci sarà scritto il nome della vostra destinazione. Ma mancheranno alcune lettere. Per completare il cartellone dovrete tuffarvi nella fossa di schiuma gigante e scavare per trovare le lettere mancanti. La prima squadra che riuscirà a scrivere la località per fare festa guadagnerà 300 punti in classifica. La seconda squadra classificata aggiungerà 200 punti e la terza 100. L'ultima squadra classificata giocherà a un Exile Game. Non voglio fare un Exile Game. Voglio far vedere quanto siamo forti come squadra, quindi sì, farò del mio meglio. Ok, si gioca! Angelina ha fissato un livello molto alto la scorsa stagione. Ha vinto il premio Paradise Game, quindi se oggi non vincerò, mi sfotteremo tutta la vita. Sì, questo è sicuramente un angolo. Il blu è in alto. Davo pensare. Va bene così. Nessuna strategia. Dobbiamo farlo e basta. Non so cosa significhi strategia.